Come trattare e curare Galstonet. Normalmente, il fegato produce la bile che viene utilizzato dal piccolo intestino per digerire i cibi grassi e assorbire le vitamine importanti. I suoi cistifelle ha negozi questo biliari. A volte, tuttavia, la bile può diventare sovrasatura con il colesterolo. Quando questo accade modulo, calcoli biliari di colesterolo, con l'elitiasi. Le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare calcoli biliari rispetto agli uomini perché gli estrogeni aumenta i livelli di colesterolo nella bile. L'obesità è un altro fattore di rischio. 20% di calcoli biliari sono pietre pigmento, fatta di sali di calcio e della bilirubina, un prodotto realizzato dalla rottura dei globuli rossi. Questo tipo di calcoli biliari è in genere causata da malattie del fegato, anemia, o un'infezione dei tuoi dotti biliari. La chirurgia laparoscopica ha fatto con le cistectomie, o la rimozione del vostro cistifellea, il trattamento più comune per i calcoli biliari, ma ci sono alcune opzioni non chirurgiche. Praticando opzioni trattamento non chirurgico. Prendere in considerazione la terapia di soluzione orale. Il medico può prescrivere un corso di ursodiol per sciogliere i vostri calcoli biliari senza intervento chirurgico. Questi trattamenti sono essenzialmente acidi biliari in forma di pillola. Ursodiol, in particolare, è un trattamento popolare perché è una delle più sicure farmaci comuni disponibili. La terapia di soluzione orale è più probabile che sia successo nel trattamento di piccole pietre, meno di 1,5 centimetri di diametro, con elevato contenuto di colesterolo. Circa il 30% dei pazienti cistifellea sono candidati per questo trattamento. Se si è affetti da pietre e pigmento, è probabile che sia necessario perseguire altri trattamenti. Questo trattamento tende ad essere meno efficace per i pazienti obesi. Per seguire la terapia d'onde d'urto. Questa terapia è spesso usato in combinazione con la terapia di soluzione orale, anche se la chirurgia laparoscopica è ora così facilmente disponibile che la terapia d'onde d'urto è raramente eseguita oggi. Questa terapia, chiamata anche litotripsia, utilizza le onde sonore per rompere i calcoli biliari in pezzi più facilmente solubili. Questo trattamento funziona meglio su calcoli biliari inferiore a 2 cm di diametro. Questo trattamento è piuttosto raro, in quanto è disponibile solo in alcune posizioni. Capire che i calcoli biliari spesso si ripetono in seguito a trattamenti non chirurgici. Calcoli biliari ritornano nella maggior parte dei pazienti che perseguono trattamenti di dissoluzione. Come risultato, questi trattamenti non sono più comuni. In genere vengono utilizzati per i pazienti che sono fisicamente in grado di tollerare un intervento chirurgico. Trattare i calcoli biliari con terpeni vegetali. Test scientifici di una miscela esclusiva di composti di origine vegetale chiamato rovaccio la prodotto risultati incoraggianti. Un corso di 6 mesi di trattamento prodotto di soluzione completa o parziale di calcoli biliari nel 29% di una popolazione di ricerca 27 paziente. Questi terpeni vegetali sembrano stimolare la produzione di bile dal fegato e inibiscono la formazione di cristalli di colesterolo. Rovaccio l'ha anche migliorato l'efficacia di altri farmaci solventi. Si consideri un filo cistifellea. Le opinioni divergono per quanto riguarda l'efficacia di purifica cistifellea e vampate di fegato. Non esistono prove scientifiche che questi trattamenti sono efficaci, ma ci sono alcune segnalazioni aneddotiche di successo. Tenete a mente che la maggior parte delle prove, prodotto nelle feci dopo un colore non è in realtà di calcoli biliari, ma piuttosto un sottoprodotto del trattamento stesso. Detto questo, si può provare diverse opzioni. Veloce 12 ore. Poi, a partire dalle 19, ingerire 4 cucchiai di olio d'oliva, seguita da un cucchiaio di succo di limone. Ripetere ogni 15 minuti per un totale di 8 cicli di trattamento. In alternativa, solo consumare mele e succo di verdura durante il giorno. Poi, circa 5 o 6, ingerire 18 millilitri di olio d'oliva, seguita da 9 millilitri di succo di limone fresco. Ripetere ogni 15 minuti fino a quando hai consumato 8 once di olio d'oliva. Vampate di colecissi spesso producono dolore e diarrea. La mattina successiva, si passa tipicamente morbide sfere verdi o marroni. Di nuovo, questi non sono generalmente calcoli biliari, ma piuttosto i sottoprodotti del trattamento. Provare l'agopuntura. Questo trattamento non può eliminare i calcoli biliari esistenti, ma può facilitare spasmi, aumentare il flusso biliare, e ripristinare la corretta funzionalità epatica e della colecisti. Trattare i sintomi della malattia della colecisti con erbe o rimedi o neopatici. È importante notare che questi rimedi non elimineranno i vostri calcoli biliari. Piuttosto, sotto la guida di un professionista qualificato che possono attenuare i sintomi in modo da poter tollerare meglio le pietre già nel vostro sistema. Il tè verde, cardomariano, carciofo, e curcuma possono tutti funzione di supporto fegato e della cistifellea. Anche in questo caso, consultare un professionista medico prima di intraprendere un regime a base di erbe. Utilizzato in modo improprio, queste erbe possono scatenare un attacco di cistifellea o produrre altri effetti collaterali indesiderati. Rimedi omeopatici per i calcoli biliari sono colochintis, chelidonium e elicopodium preparati in concentrazioni specifiche. Evitare i calcoli biliari formazione. Seguire pratiche alimentari che sono stati dimostrati per prevenire i calcoli biliari. Un certo numero di pratiche sono stati collegati a minore incidenza di malattie della colecisti. Consumare grassi polinsaturi e monoinsaturi. Mangiare molta fibra. Ingerire la caffeina come parte della vostra dieta quotidiana. Seguire una dieta vegetariana. Evitare l'eccessiva assunzione di zuccheri raffinati come saccarosio e fruttosio. Alcuni indizi indicano mangiare grandi quantità di legumi può aumentare la incidenza di contrarre la malattia della colecisti. Consumare una minima quantità di alcol. Considerare mangiare diverse porzioni di un'oncia per ogni settimana di arachidi o altra frutta secca. Questo è dimostrato utile in studi condotti su soggetti di sesso femminile, in particolare. Mangiare regolarmente, evitare di saltare i pasti. Consumare supplementi nutrizionali di prevenzione. Integratori alimentari contenenti vitamina C, lecitina di soia, e ferro sono dimostrati utili nel prevenire lo sviluppo di calcoli biliari. Perdere peso lentamente e poi mantenere un peso corporeo sano. Rapida perdita di peso può aumentare il rischio di sviluppare calcoli biliari. Mentre l'obesità è un fattore di rischio per malattie della colecisti, ti consigliamo di eliminare questo fattore di rischio lentamente attraverso un'attenta perdita di peso. Lento, costante perdita di peso di 1-2 sterline a settimana è migliore. Per seguire test allergologici e quindi eliminare gli alimenti allergizzanti dalla vostra dieta. L'identificazione è quindi di evitare gli alimenti che causano reazioni allergiche nel vostro sistema in grado di ridurre il rischio di sviluppare calcoli biliari.